Rasoio alla mano, oggi vi parliamo di Snowpiercer, il film con il Chris Evans di Captain America ambientato in un glaciale 2031. L'umanità viene decimata dal freddo e gli unici che si sono salvati sono i passeggeri dello Snowpiercer, un treno che gira tutto il mondo allo scopo di tenere in vita gli ultimi esseri umani. Chi vive nei primi vagoni ha un tenore di vita lussuoso, mentre chi alberga in coda il treno vive distenti. Il sopruso e le note differenze sociali accendono la miccia di una rivoluzione, ma dovrete tagliarvi la barba per sapere come va a finire. Magari lo sapevate già, magari no. Il disco Blu-ray di Coach Media di Snowpiercer è stato ritirato dal commercio qualche mese fa, perché un gruppetto di appassionati dell'alta definizione, tra cui ci eravamo anche noi, aveva segnalato dei cali di qualità nelle immagini, un'elevata compressione e altri piccoli difetti tecnici. Incredibile ma vero, se consideriamo che le lamentele non saranno state neanche un migliaio, Coach Media è intervenuta, ha ritirato l'edizione difettata dal commercio e ha assicurato agli acquirenti la sostituzione gratuita con il nuovo disco Blu-ray. A nome di tutti gli appassionati ringraziamo Coach Media per la veloce corsa ai ripari. Tutti gli acquirenti che hanno il dente avvelenato perché il loro film preferito ha avuto un brutto trasferimento o perché addirittura non è mai uscito in un video, Jimmy Bovo, non si dimenticheranno di questo intervento rispettoso, che sarebbe la norma, ma in Italia, dove il Blu-ray ha meno peso del DVD, è un'eccezione. Quindi complimenti. Veniamo dunque alla nuova edizione. Confezione singola, due dischi, uno per il film, uno per i contenuti speciali e doppia copertina, esterna e interna. Il film è restituito in Full HD 1080p nel ritaglio originale 1.85 a 1, quindi sui nostri televisori a 16 noni dovrebbero comparire delle leggere bande nere sopra e sotto il fotogramma. La catena audio propone l'italiano e l'inglese in codifica DTS HD Master 5.1 senza perdita di qualità. Non abbiamo rilevato difetti nella traccia video e audio. L'immersione sonora è audace, coinvolgente e la fotografia è ricca di dettagli. Noterete subito che il regista ha un certo gusto per l'inquadratura stretta. Ostenta sui primi piani e sui dettagli, tanto che in questo film sarà difficile provare indifferenza per il nostro Captain America. Non dimentichiamoci del disco dedicato ai contenuti speciali, una vera vagonata di curiosità per una durata di circa 100 minuti. Si discute delle scenografie, del fumetto originale, del cast e degli effetti visivi. Le interviste sono prive di entusiasmo, la sensazione è che fossero stremati durante le registrazioni. Tuttavia i concetti espressi e i tecnicismi sono davvero interessanti, specie quando ci spiegano come hanno simulato i movimenti del treno, lo spostamento tra i vagoni e l'uso dei green screen. Concludendo, il nuovo disco Blu-ray di Snowpiercer merita un pelo e contropelo. Taglio la barba, lo promuove a pieni voti. Ora vi lasciamo ad alcune foto della confezione, così dal codice a barre potrete distinguere l'edizione vecchia e errata da quella nuova corretta. Non è che se andate al centro commerciale a Natale è automatico che trovate in vendita la copia nuova, quindi occhio! Se invece volete facilitarvi la cosa acquistatelo dai nostri link in descrizione, da DVD store o Amazon. Così facendo supporterete il canale e il paradiso vi accoglierà a braccia aperte. Alla prossima!